Quando se sarà lei al governo e dipendesse da lei, quale altra misura di... Per esempio la metropolitana è vulnerabilissima ancora oggi. Cosa si può fare con la metropolitana? Beh, non è facile naturalmente cercare di risolvere... Metal detector, interventi... Scusi, perché è vero che bloccherebbe la metropolitana. Certo. Però anche a Londra e non solo in Italia. Vorrei precisare che anche nella controllatissima Londra, chiaramente essendo milioni di persone che vanno in metropolitana, però rimane un luogo vulnerabile. Assolutamente. Bisogna lavorare con l'intelligence, perché non credo che sia possibile realizzare una misura come quella che lei sta... Metal detector. Metal detector, perché sarebbe veramente irrealizzabile, visto il movimento e l'entità delle persone che si sposano. Bisogna lavorare molto bene con l'intelligence, creare delle condizioni per conoscere quello che sta per accadere. Se l'esercito affiancasse la polizia negli stadi, noi saremmo anche contenti. Cioè, siete diventati quasi che la gente vi vuole. Io cito un episodio, dicono che nel sud c'è l'illegalità diffusa. Io voglio citare questo episodio. Io vado spesso per motivi di lavoro a Napoli. Moltissimi napoletani che vengono spacciati per genti illegali, insensibili alle istituzioni, quando c'è il dibattito, c'è o no... Al di là che sia giusto o sbagliato, c'è o no l'esercito che mi dicono noi lo vogliamo. Perché sono balle che se la mafia è colifera comunque, se c'è un fattore di Stato, di legalità, la mafia comunque è costretta ad abbassare la cesta. Sul calcio potreste dare un contributo anche voi? Non potremmo dare un nostro contributo in quanto i compi delle Forze Armate sono naturalmente molto chiari e molto ben delimitati. Non credo che la presenza dell'uniforme all'interno dello stadio sia un segnale positivo. Vorrebbe dire che praticamente c'è una degenerazione... Un contributo tecnico? Un contributo tecnico sicuramente sì, di pensiero, di idee naturalmente.